Cristina Scuccia concorrente all'Isola dei Famosi Primo Reality per l'ex Suor Cristina Cristina Scuccia, conosciuta al grande pubblico come Suor Cristina, dopo essersi spogliata dell'abito monacale, ha intrapreso una nuova vita e come anticipativo blog, entrerà a far parte dell'Isola dei Famosi 2023. Lo scorso novembre nel salotto di Silvia Toffanin, Cristina Scuccia aveva raccontato il percorso che l'aveva portata alla decisione di non svestire i panni di Suor Cristina, grazie ai quali era diventata famosa partecipando a The Voice, grazie alla sua passione per il canto. Decidendo però di abbracciare una nuova vita. Ebbene, secondo quanto riportato da TV Blog, la 32enne partirà per l'Honduras e si immergerà in questa nuova avventura, prendendo parte al primo reality della sua vita. Un cambio di passo radicale, che arriva dopo la sua scelta di lasciare l'Italia per vivere in Spagna e iniziare in un posto dove nessuno avesse contezza del suo passato e darsi. Così, la possibilità di ricominciare. Ma quando i reality chiamano non sempre è facile dire no. Ragion per cui l'ex protagonista del talent di Rai 2, scoperta e seguita dall'allora giudice i lunga hacks. Ha deciso di darsi una nuova chance anche sul piccolo schermo. Lo show dovrebbe tornare in prima serata al prossimo 3 aprile, con Ilari Blasi alla conduzione in queste settimane. Con la fine del grande fratello Vip alle porte, iniziano a circolare i primi nomi di coloro che prenderanno parte all'avventura isolana. Ad anticipare i primi nomi è sempre TV Blog che, oltre a quello dell'ex war Cristina, dà per certa anche la partecipazione al reality di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Di Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Kering Clary. Mentre, per quanto riguarda il parter che affiancherà la conduttrice, confermatissima Vladimir Luxuria dopo la scorsa stagione, insieme ad una new entry, ovvero Ernico Papi. La fel, trage de mine caratterul meu de fier, ca baie ploaie vand nici un curcubeu, Il frate astea-s doar in capul meu si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cat ai intarziat deja. Arunca spate visele intr-o geanta si pleaca, grabește-te ca trenul asta nu așteaptă. Dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva, Închide ochii-s poți imagina ca lumea e a ta si-n plus, poți sa sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba, Cri de sus, cri de sus, cri de sus, cri de sus, poți sa sari.